e buongiorno buon 30 maggio 2024 oggi è giovedì e sta quasi per finire il mese però vuoi sapere una cosa il mese sta per finire anche questa settimana sta per finire ma la grazia di dio non si esaurisce mai l'amore di dio per la tua vita non finirà mai la pace di dio che vuole abbondare nella tua vita non finirà mai gloria al nome del signore è buono celebrare il nostro re salmeggiare all'altissimo proclamare alla mattina la sua benignità e la sera la sua fedeltà è vero o no che è bello salmeggiare al signore la mattina il pomeriggio la sera in ogni momento come dice un salmo loderò l'eterno in ogni tempo la lode sua sulle mie labbra avrò l'alma mia riposerà in dio ogni umile alludire gioirà benedetto il signore questi sono canti ma è parola di dio questa è una verità assoluta benedetto del signore vogliamo ora ascoltare la parola il consiglio che viene da parte dello spirito santo che sono convinto che parlerà ad ognuno di noi parlerà al nostro cuore e ci benedirà ci fortificherà e verrà incontro ai bisogni di ognuno di noi indistintamente questa è l'opera di dio amen dice così il vangelo di oggi i pascoli si rivestono di greggi e le valli si coprono di frumento essi prorompono in grida di gioia e cantano grandi sono le opere del signore le sue opere sono splendide e magnifiche e la sua giustizia dura in eterno testo che possiamo trovare nel salmo 65 versetto 13 salmo 111 versetti 2 e 3 e il titolo di questo messaggio è questo un giorno la natura canterà sì un giorno la natura canterà di gioia ciò rientra nelle profezie della bibbia e accadrà sai quando quando gesù cristo stabilirà sulla terra il suo regno di giustizia e di pace numerosi salmi parlano dell'esultanza della creazione esultino i campi e quanto è in essi tutti gli alberi delle foreste emettano grida di gioia in presenza del signore i fiumi battono le mani esultino insieme i monti davanti al signore questa non è la realtà di oggi poiché dall'ingresso del peccato nel mondo la natura ne ha subito gli effetti negativi con la conseguente condanna divina il suolo sarà maledetto per causa tua disse dio ad adamo da allora tutta la creazione geme ed è in travaglio aspettando di essere liberata dalla schiavitù quanto soffre tuttora la natura il salmo 111 dopo una rapida allusione alla creazione le opere dell'eterno parla di altre sue opere splendide e magnifiche si tratta di un richiamo alla liberazione del popolo di israele quando era schiavo in egitto e per i cristiani all'opera di gesù alla croce quest'opera è il nostro grande argomento di lode e riguarda la liberazione dal peccato e l'accesso alla presenza di dio il signore ci introdurrà in cielo anche noi possiamo esprimere a dio il nostro stupore davanti alla sua creazione e rispettarla la natura è organizzata in modo meraviglioso ricco ammirabile dio dona la vita e la mantiene ogni forma di vita è come una lode che sale a lui quindi vogliamo lodarlo con tutto il nostro cuore anche con la nostra bocca e con la nostra preghiera che ti invito a fare insieme a me in questo momento ti invito a chiudere i tuoi occhi vogliamo pregare il padre nel nome di gesù amen gloria a dio padre celeste dio nostro vogliamo dirti che tu sei dio benedetto in eterno vogliamo adorarti vogliamo benedirti vogliamo lodarti e lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore vogliamo farlo e vogliamo ringraziarti per la vita che ci hai donato anche oggi vogliamo ringraziarti e benedirti per la natura per la creazione per ogni fogliolina che tu hai fatto nascere che tu hai creato per ogni albero per ogni foresta per le nuvole per il sole la luna le stelle per il cielo per i mari per tutto l'intero universo noi ti diciamo grazie signor grazie perché ci dai la possibilità di poter vivere in questo luogo che tu hai creato ci stai dando una grande fiducia e una grande responsabilità ti vogliamo benedire e lodare con tutto il nostro cuore anche per la parola che è rivolta ai nostri cuori questa mattina signore la tua parola è una lampada al nostro piede ed è una luce sul nostro sentiero gloria al tuo nome signore noi siamo qui davanti alla tua presenza perché diciamo questo tu sei dio e noi abbiamo bisogno di te signore ti prego benedici la mia vita e benedici la vita di tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando questo video che la tua benedizione possa scendere abbondante sulle loro vite e anche sulle loro famiglie signora che la tua parola possa essere incarsiata nei loro cuori e possa portare frutto alla tua gloria signore ti prego provvedi per il loro bisogno signore ti prego guarisci dalle malattie nel nome di gesù cristo ti prego di battezzare nello spirito santo nel nome di gesù cristo ti prego di portare salvezza nel nome di gesù cristo padre celeste mentre che siamo riuniti alla tua presenza e nel nome di gesù opera nei nostri cuori secondo il bisogno di ognuno grazie per quello che hai fatto grazie per quello che stai facendo e grazie per quello che farai noi ti amiamo e ti diciamo grazie in cristo gesù amen amen fratello sorella amico e amica che stai guardando questo video ti saluto con la pace del signore e ci vediamo domani al solito appuntamento con il calendario cristiano il buon seme dio ti benedica grazie a tutti